Si dice che di Venere e di Marte non si arriva e non si parte, oggi è mercoledì però e anche qui non si arriva e non si parte comunque, stretta sugli arrivi in Italia, per questo quanto riguarda il non si arriva, l'Unione Europea attacca Roma spieghi e l'Europa ci vuole aperti a tutti, non possiamo chiudere niente. Non si arriva quindi in Italia, vediamo poi se riusciremo a mantenere questa chiusura dei confini, ma intanto apriamo invece i nostri ascoltatori di Radio Raccontiamoci, buongiorno, vi invito a partecipare, vi invito a scrivere, a infocchioccio, a radioraccontiamoci.net, a raccontare le vostre storie perché è su questo che poi puntiamo e arriveremo in una edizione rinnovata a partire dal prossimo anno. Ma adesso leggiamo, diamo un'occhiata, diamo un occhio, saltiamo un po' sulle notizie. Grazie anche a chi collabora con noi, a Simona Tonini, a Mauro Roberto Stefano Mauri, ma tutti voi che sostenete, vedete magari un mi piacicchia, mi piace un po' esagerato, noi siamo un po' sotto tono, siamo molto umili, quindi ci basta che ci piacchia. Allora, non si arriva in Italia, ma c'è anche chi non parte, e chi non parte è lui, è Zacchi, perché per quanto liberato non può viaggiare, nella blacklist, quindi Covid a parte, vorrebbe venire a Bologna, ma rimane al Cairo. Diamo un saluto a Zacchi, che è rimasto in carcere pertanto per reatti che riguardano l'opinione, le notizie false, le cose che noi facciamo tutti i giorni. Guarda qui, un'altra bella foto, oggi voglio partire con un po' di allegria perché sorridono tutti e due, il Papa è lui, il gigante del calcio. Mi è sfuggito la foto, lo andiamo a ribeccare subito. Zlatan Ibrahimovic, beh, lui ha di che essere contenti. Noi magari in questo momento siamo un po' di meno, siamo un po' più allarmati, allarmati perché continua lo stato di emergenza fino al 31 marzo almeno. Io nel titolo ho messo allarme continuo fino al 31 marzo, perché sui giornali solo di quello si parla, di allarme, di emergenza, emergenziamo. Abbiamo i nati quest'oggi, a proposito di nati, sempre di meno, 20.000 nati in meno, ma del resto, con il futuro che ci prospettiamo, è un po' difficile pensare a fare i bambini. O ci siamo dimenticati anche come farlo, perché magari metti che metti la mascherina nel posto sbagliato, poi è difficile, capito? Racconto dei numeri, aspetta, aspetta Simona che hai la voce bassa, alziamo la voce un po' giù di voce la nostra Simona, ma adesso ci racconta per bene i numeri perché è importante sapere che numero possiamo giocare oggi, avere comunque un numero fortunato per la giornata. Allora, qual è il racconto? Eccolo qua. Il racconto dei numeri oggi, 15-12-2021, ciò che nasce oggi sarà sostenuto dal numero 5. Numero 5. Cose e persone mercuriali, quindi votati necessariamente ad essere progressisti, veloci, comunicativi, no alla routine, no alla monotonia. Pensavo stessi dicendo anche comunisti dopo progressisti, no perché non so se si può ancora, a parte che non esistono più quelli di una volta, anche se li hanno rifondati. Apriremo un discorso di quelli che potrebbe portarci a mezzanotte di non so quale anno. Quindi chiudiamolo, apriamo invece le prime pagine oggi, quindi il numero è quello che vi porta ai cambiamenti. Ma noi di cambiamenti, qua sui giornali ne vediamo pochi, abbiamo un'emergenza continua e le frontiere chiuse ai Novax. Questo è quello che si prospetta in Italia, ma subito arriva l'Ira di Bruxelles. No, un po' è mica, gente. Quarantena per chi arriva dalla UE e la UE ci chiede perché a UE, a O, alle, alle, e beh perché, ognuno ha accesso e perché potrebbe essere, questa è una risposta molto italiana. Ma la Repubblica, l'Italia si blinda, era della UE, ma figliuolo, più interessante è questo, figliuolo, caro mio figliuolo, no il generale figliuolo. Figliuolo, Natale sicuro, il piano, dice, intervista al generale nominato alla guida del COVI, siamo pronti, che poi è il COVI, è il centro, anti, onze, diciamo, piene di sigle, non me le ricordo più, il COVI è una sigla, punto. Siamo pronti a immunizzare entrando casa per casa, voi immaginate questi soldatoni che arrivano a vaccinare house to house, casa per casa, siamo pronti a dire sempre un sacco di robe, secondo me, è quello. E a proposito di un sacco di robe da dire, libero, immigrazione con Salvini meno morti che con la Morgese, è il titolo di libero. Il giornale ci ricorda invece che sì, siamo in uno stato d'emergenza su tutto, tranne che sulle tasse, perché non c'è la deroga sulle cartelle esattoriali, infatti la manovra sta andando avanti, si sono presi a cartelle esattoriali, però tanto poi le paghiamo noi, quindi loro possono prendersela finché vogliono, ma rimane così. Boom dei mutui, casa per i sole 24 ore, ma la cosa più interessante è questa, un altro bonus, abbiamo inventato un altro bonus, il bonus separati. mentre i giovani trainano il mercato, c'è questo bonus che non ho capito, danno un bonus per chi si separa, che già è difficile oggi comunque, abbiamo abolito la mediazione familiare, ci sono gli avvocati, costa forse per andare dagli avvocati, non lo so cosa servirà questo bonus separati, però è allo studio del governo. Ciao Mauro, che giornata è oggi? Perché è meglio parlare della giornata mondiale, andiamo dal nostro direttore del Green Village, questo villaggio virtuale, il famoso e noto DJ Chopin, anche esperto, giornatologo mondiale. Giornata mondiale oggi di... Siamo in onda? Sì, siamo in onda, siamo in onda. Buongiorno signor Forti. Buongiorno, dica. Oggi è la giornata mondiale dell'alluce valgo. Questi piedi però non hanno l'alluce valgo, questo è l'alluce valgo esposto al sole mentre si fanno i bambini, ecco, e questo è, ho capito, è una campagna pro-bambinamento. Ritorniamo ai giornali e abbiamo i quotidiani locali, localissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim e sempre in allarme perché, non so, quotidiano del sud, no, qui parla di Movida, Movida stile far west, la preoccupazione per quelli che fanno schiamazzi, schiamazzi notturni, non schiamazzate. Quotidiano del Sul, Focolaio a Capostelle, qui invece si ritorna l'allarme, l'allarme anche dal gazzettino, obbligo di vaccino sia nord-est, da nord-est si sente un obbligo di vaccino, rispondono le trombe, è una cosa che mi ricorda l'opera. Piccolo, stretta sugli arrivi in Italia, Novax in quarantena, però l'Europax dice Nox, la Sicilia invece, attenzione, fumata nera in Sicilia, ma non perché non c'entra il Papa, ma è il risveglio, dopo qualche settimana di tregua l'Etna torna in attività, c'è la neve, c'è anche il fumo e c'è la neve nera. Spettacoli naturali bellissimi, ma che fanno un po' paura a dire la verità. Però è interessante sempre questa potenza, la forza della natura, vaccinazione ai bambini, quasi 2000 prenotazioni per il messaggero, che continua questa emergenza. Il Tirreno ci parla invece della rivoluzione della sosta, perché una delle rivoluzioni che riusciamo a fare è quella dei nuovi spazi per auto e scooter tra Livorno, Rosignano e Cecina. Li metteranno di traverso, di là, di fianco, non so come possono rivoluzionare la sosta, uno sopra l'altro, io farei uno sopra l'altro. L'Alto Adige parla di vaccini e si parte con i bambini, vedete un po' di emergenza, è un po' di sosta, emergenzissima per Piacenza invece. Allarme, qui scatta, c'è una sirena, numeri da nuovo allarme per libertà di Piacenza, 300 chiamate in due giorni alla USCA, altra sigla, su questa sigla non voglio parlare, alla USCA. In Italia picco di morti, ragazzi, 120 da maggio, qui però, io cercherò, d'ora in poi, di essere molto più up, molto più alleges, perché sennò dovremmo spiegarci tante cose che non hanno spiegazioni. Allora, quando non c'è la spiegazione, possiamo soltanto sorvolarla, solo sorvolarla così. Stescia Notizia è arrivata a Piacenza, dove arriva, sì, si ricorda che ci sono i corridoi dello spaccio, io, se lo sapevamo anche prima, ma rimangono lì, non è che cambiano da anni, stando qua a Piacenza, è sotto gli occhi di Todos, però, 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 sotto gli occhi di tutti c'è la storia. Simona Tonini, raccontaci. Succede, il 15 dicembre del 1979, iniziano le trasmissioni della rete 3 della RAI, dagli studi televisivi di Roma prendono via le trasmissioni della rete 3, terza rete della RAI, istituita già nel 1975. Ribattezzata Telecabul. Nascono il Tg3, telegiornale nazionale e l'attestata giornalistica per l'informazione regionale. E che fa una grandissima informazione, però era stata subito ribattezzata, poi, Telecabul, dalla spartizione che continua, no? L'ultima spartizione, quella avvenuta con i 5 Stelle, che sono stati votati per non fare la spartizione, e poi sono stati i primi a dire, beh, però, se noi non entriamo, non veniamo più, ritiriamo il pallone. Eh, ma è così, cioè, la politica è fatta di queste contraddizioni. Questo bell'uomo, invece, mi sa che si occupa di Juventus, vero? Adesso lo chiederemo a Stefano Mauri, certo che è un bellomino, volevo ringrandire la foto, ma Federico Pastorello, premiato come miglior agente nel corso di Golden Boy 2021, è professionista, insomma, del calcio, ma di calcio ne parleremo con Stefano Mauri, sul fronte del blog si trova, oltre a questo bell'uomo, questo bello, perché per fare la gente poi bisogna avere la stessa prestanza, invece due signori poco prestanti che sono in carcere, che sono stati dei mostri, stati, perché poi, oggi, sentendo, rivedendo, rileggendo, si parla anche di un grande abbaglio, controinchiesta sulla strage di erba, da ascoltare perché è una serie di podcast. E ora Stefano Mauri e la sua passeggiata tra il ghiaccio del mattino. Buongiorno. Dalla strada, sai che rumori si arrivano dalla strada? Non lo so, rumori, macchine. Perché Ferdinando Casini potrebbe diventare il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Mi lascia perplesso. Ma davvero così lo scopriremo vivendo. Casini, hai detto. No, perché qui stiamo inquadrando dei casini. Arthur, centrocampista della Juve, anche lui finito sotto indagine, suo malgrado. Sotto casino. Ebbene Arthur gioca poco con Allegri e potrebbe, almeno così dicono quelli informati, andare alla Lazio a gennaio con Luis Alberto che verrebbe... Non lo so, devi vedere se la UE lo permette perché... Lo scambio sarebbe intrigante. La UE, Sarri. Già allenatore della Juventus. Sì, poi delle Lazio. Dunque, due anni fa con Pro Arthur, intappellato in proposito, rispose in conferenza stampa. Chi è Arthur? Non lo conosco. E per Casini, Brocco. Lo conosceva allora, lo conosce adesso. E visto che sale poi tra l'altro era Lazio. Ritorniamo nei Casini, vedi? Capitale dolcissima del Gran Ducato di Tortello. Non solo Tortello, ma che salume. Doce, ma non troppo. No, però ti dimentichi una cosa. Stefano, ti dimentichi... Fatti bravi, Natale, in arrivo, eh. Ok. Babbo Natale esiste, eh? Esiste. E ci porterà. Noi a Babbo Natale abbiamo chiesto... Stiamo parlando, situazioni gravi per portarci... Sì, ma Stefano, ti sei dimenticato di una cosa. Noi, chapeau, ma a Babbo Natale abbiamo chiesto di portarci i jalis a Sanremo. E anche voi, se volete chiedere a Babbo Natale di portarci i jalis a Sanremo, chiocciola, infochiocciola, radioraccontiamoci.net e vediamo se Babbo Natale porterà i jalis a Sanremo. Già, Amadeus se l'è presa per questa cosa, quindi continuate a scriverci. Adesso lo ricordo anche a Stefano, a quella che dobbiamo fare la letterina, a Babbo Natale dobbiamo farla così. Se invece voi avete scritto non letterine, chi è arrivato qua in fondo è già un eroe, vuol dire che può mettere quattro mi piace sui nostri podcast, sulle nostre dirette, ma potrebbe anche pubblicare il proprio libro, il proprio romanzo, il proprio scritto con noi di Radio Raccontiamoci. Fatecelo leggere e poi vedremo se riusciamo a creare un piano editoriale.